buonasera ragazzi e benvenuti nel mio canale allevamento amatoriale di raffaele esposito prima di iniziare con un nuovo video vi invito ad iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina buonasera ragazzi e benvenuti nel mio canale allevamento amatoriale di raffaele esposito stasera faccio questo video per presentarvi la nuova noi nei canarini tossi alla chiara alla bianca usate vi faccio vedere il maschio intenso ecco qua la femmina brinata ragazzi questi sono la novità per quest'anno in verità nel mio canale non mancano mai le novità io che allevo allevavo semplicemente di degli esorici per quest'anno abbiamo preso qualche coppetta di di canari entrambi 2020 vediamo se riusciamo a riprodurli non ci sembrano a loro agio i due soggetti ovviamente gli animali sono da lavorare questo è poco ma sicuro vediamo un po io che avevo deciso che con i canarini non ci volevo fare purtroppo ero la passione per questi splendidi animali super al tutto abbiamo ma giusto quattro coppiette abbiamo preso abbiamo questi una coppietta di portoghesi che abbiamo vinto grazie alla nostra associazione e due coppiette di agata rosso mosaico noi vediamo quest'anno cosa si riesce a fare con questi animali ovviamente vi aggiornerò sulle cure vi aggiornerò sul tutto metteremo in preparazione come subito questi animali anche ci sono arrivati ieri praticamente come subito se il video vi è piaciuto mettete mi piace e iscrivetevi al canale ciao a tutti ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti